Si sgonfia almeno in parte l'inchiesta su presunte tangenti legate alla ricostruzione dell'oratorio salesiano dell'Aquila che solo qualche mese fa aveva creato molto scalpore. Il giudice per le indagini preliminare del Tribunale dell'Aquila Giuseppe Romano Gargarella ha disposto l'archiviazione dall'accusa di abuso di ufficio in concorso per l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Paolo Aielli, ex titolare dell'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila e il dirigente del settore ricostruzione privata del comune Vittorio Fabrizi. I due figuravano tra i sei indagati dell'indagine che nel novembre 2015 ha portato all'arresto ai domiciliari dell'ex vicesindaco del capoluogo Roberto Riga e dell'imprenditore Massimo Mancini, oltre che altre due misure cautelari. Aielli è stato nominato in Abruzzo nell'ottobre 2012 ed è passato a guidare la Zecca dopo due anni in anticipo rispetto alla scadenza. Al suo posto è stato nominato Raniero Fabrizi. I due erano stati indagati per aver considerato nei loro uffici il complesso dell'opera salesiana come un'abitazione privata invece che una struttura religiosa, con la conseguenza di aumentare da 80 mila euro fino a 28 milioni e mezzo di euro i contributi concedibili per la riparazione post-sisma. Secondo la tesi iniziale degli inquirenti, che non ha trovato riscontro vista la richiesta di archiviazione dello scorso 10 febbraio del pubblico ministero Davide Mancini, i due in questo modo avrebbero finito per procurare un ingiusto vantaggio all'opera salesiana e all'impresa Mancini SRL, consistito nella percezione di un indebito contributo a favore della stessa impresa, altrimenti non spettante o spettante in maniera notevolmente inferiore.